di preparazione per i due giorni di Milano che sentiremo dopo con parte della sua giunta, col segretario Luca Gargioni e col direttivo Davide Mullas. Arturito Vidal, c'è stata la polemica, lui non se l'è tenuta, è un uomo di garra come dite voi sudamericani, non se l'è tenuta, ha avuto un confronto con Ernesto Valverde, ieri Valverde l'ha messo al settantatresimo finalmente in un momento importante della partita e lui ha risposto come secondo te? Per me è entrato subito in partita e inoltre ha dimostrato la sua classe perché è capace di difendere ma è capace di attaccare pure inoltre quando perde un palone lotta 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 fino a che lo recupera per me serviva negli altri partiti pure però sempre il problema di Valverde andiamo alla partita di ieri andiamo alla partita di ieri, la partita di sabato ci ha messo paura ovviamente a tutto il barzellonismo per quello che è accaduto a Leo Messi, non siamo abituati a vedere il nostro, il più grande giocatore del mondo, l'uomo che probabilmente fa la storia del Barça ogni volta che scende in campo con la camiseta blaugrana, non siamo abituati a vederlo e quindi eravamo anche molto spaisati. Il Barça però aveva iniziato molto bene, una grande partita, un primi 12 minuti spettacolari con delle azioni Coutinho, Suarez e Messi a dir poco spettacolari e appunto i due gol, il passaggio del Leo per Coutinho, il gol del Leo su una grande ripartenza del Barça a recuperare il pallone in transizione su un passaggio stupendo del del Ciarrua. Tutto questo ci ha un po' messo pure, eppure il Barça ha continuato a giocare, è entrato Dembélé, ha giocato malissimo, sicuramente il peggiore in campo. Inoltre di quello, ne ha messo dieci minuti nella ciascura delle scarpe. Esattamente, sicuramente anche l'allenatore continua a commettere qualche errore, questo errore, l'abbiamo visto con l'Anglet, con il fare entrare l'Anglet sull'espulsione di, no scusa, un titolo a farlo entrare al posto di l'Anglet quando fu espulso, però il giocatore ci ha messo tanto, è stato anche ripreso poi da Rakitic a fine partita davanti ai microfoni della televisione. Lì in quella partita però al secondo tempo il Barça purtroppo ha preso le ripartenze, ha preso le ripartenze del Sevilla che due grandissime parate di Mark and Detrestegen, possiamo dire in questo momento il più forte portiere del mondo in questo preciso momento e poi due gol del del Siviglia e un palo. E la difesa ha traballato anche in quel caso, non sorretta da un buon centrocampo, mentre in attacco anche senza il Leo, Coutinho e Suarez in particolare supportati da Rakitic e da Artur Melo hanno confezionato poi gli altri due gol e anche altre belle azioni che hanno costretto il Siviglia a difendersi. Ma il problema è che insiste sempre a fare giocare tutte le partite di 90 minuti al Busi e a Rakitic e questi mica sono di acciaio. E questa era un po' la critica anche che veniva fatta. Si va alla partita contro l'Inter e le preoccupazioni sono tante. Le squadre italiane non possiamo nasconderci il fatto che sono tornate molto molto bene in Champions League. Già lo scorso anno dalla semifinale contro contro appunto la semifinale della Roma e la Juventus che per me personalmente in questo momento è la più forte squadra che c'ha l'Europa. Io ho visto la partita contro il Manchester United e è andata a giocarsi all'Old Trafford una partita sembrava che giocava a casa con una tranquillità, una forza anche psicologica incredibile e una difesa impenetrabile. Compatta e inoltre un messo campo che frena tutto. Esattamente e diciamo anche la Roma che va male in campionato riesce a scambiarsi mentalità e pelle nella Champions dove si contende il girone con il Real Madrid e sono primi tutti e due a sei punti. Il Napoli che ha fatto, ha battuto il Liverpool al San Paolo e vinceva a Parigi, è stato raggiunto al 92esimo, ha messo sotto a Parigi la squadra del pesetero Monemar e quindi le squadre italiane eravamo preoccupati insomma. Voglio dire io al meno che conosco l'Inter sono, ero abbastanza preoccupato. Il Barca invece ieri ha sfoderato secondo me la la più la più bella prestazione corale di tutta quanta possiamo definire Alberto la la stagione in questo momento la la stagione e questo anche dobbiamo dire perché noi faccia critichiamo l'allenatore quando è giusto criticarlo ma lo dobbiamo ammettere che ieri Ernesto Valverde è stato molto bravo nel nel preparare la partita e nel nel nelle scegliere anche i giocatori. Noi eravamo per niente d'accordo con Raffinia, io personalmente non ero per niente d'accordo. Invece poi si sta scoprendo anche nelle ore adesso anche il perché di questa scelta con Dembélé che sembrerebbe da alcuni giornalisti che sia arrivato con 25 minuti di ritardo che è stato ripreso già in allenamento da Piché che era stato ripreso da Rakitic durante la e da Suarez durante appunto il ritardo dell'entrata nella partita contro il Sevilla eh di sabato di cui ne parlavamo prima e e quindi di conseguenza tutto questo ha fatto sì che Ernesto Valverde scegliesse una formazione che tatticamente probabilmente non si non non cambiava molto perché Raffinia comunque è un sinistro che gioca a destra certo non è sì e non ha eh l'input dell'attaccante che però va a fare gol perché la sblocca lui la sblocca lui in un grande inserimento la sblocca lui su un grandissimo passaggio del Ciarrua e fa una buona una buona prestazione una buona partita e in particolare dà equilibrio alla squadra come riesce a darlo anche altri centrocampisti. Ieri una prestazione spettacolare di Ivan Rakitic e di Sergio Buschez e in particolare di questo Artur Melo che è veramente stato qualcosa di incredibile dicono tutti non paragoniamolo a Ciavi che è una santità ma io appunto io non lo paragono a nessuno io dico che ha il DNA del Barça questo ragazzo l'abbiamo sempre detto e abbiamo anche detto che forse Ernesto Valverde doveva assolutamente dove assolutamente metterlo prima però stanno andando. Hai sentito il fischi quando l'ha tolto? I fischi fischi alcuni fischi erano rivolti a apprezzamento a Vidal per il comportamento altri Ernesto Valverde perché lo stava togliendo io non l'avrei tolto l'hai fatto giocare però comunque la partita stava su un buon binario e quindi magari è stato anche si ha ricaricato le batterie per domenica sera contro il Madrid. Grande Barça ripeto poi il secondo gol è arrivato nei tempi di recupero e l'Inter non ha mai tirato in porta ha fatto un tiro solo di Politano a inizio secondo tempo che tentava invece di grossarla che di girarla Testechen con la manona l'ha buttata fuori quella è stata l'unica occasione dell'Inter in 90 minuti squadra che è venuta al Camp Nou e che non è ancora pronta ovviamente per grandi palcoscenici però noi dobbiamo stare attenti al ritorno al 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 lassù a Milano e a San Siro. Detto questo le altre due del girone non vanno perché pareggiano due a due a Induven tra PSV e Tottenham e quindi l'Inter a nove punti scusa il Barça a nove punti l'Inter a sei e a un punto c'è Tottenham e PSV a Induven quindi diciamo che siamo un passo dalla qualificazione ci andiamo a prendere un punticino a San Siro e siamo praticamente già qualificati agli ottavi di finale partita invece che di domenica domenica c'è c'è il classico c'è c'è la partita con il Madrid c'è la partita delle partite c'è quello che rappresenta per noi il diavolo quindi dobbiamo battere no il drago di San Giorgio insomma. Non dimentichiamo che per più che in certo momento andrà male è sempre una grande squadra il Madrid. Esattamente io non mi fido assolutamente poi ne parleremo io non mi fido assolutamente del Real Madrid non mi fido assolutamente di Lopetegui nel senso che non credo che sia un bravo allenatore ma che comunque sia il Madrid è una squadra di rango e quindi bisogna sempre rispettarla e tenere attenta la nostra concentrazione non è io spero 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 fortemente che tutti quanti giochino come hanno giocato mercoledì con l'Inter anche su una questione che mi è piaciuta molto che è quella della concentrazione e della mentalità che sembra aver ritrovato il Barça quindi questo credo che sia importante. Puntata ovviamente questa sera che però tratterà anche altri temi non solo quelli del campo ma anche quelli del club perché sabato c'è stata un'importante assemblea dei soci con dei soci di fiducia li traduciamo in italiano de compromisso cioè di fiducia sono compromissari cioè sono appunto il parlamentino il parlamento che del Barça e questi soci hanno sostanzialmente ottenuto quello che dicevano alcuni da da molti che dicevamo alcuni noi soci da molti che lo scudo non si tocca perché la storia del Barça è racchiusa tutta nel proprio scudo nel proprio scudo nel proprio scudetto e quelle quelle tre lettere F C B football club barcelona sono l'identità che da quasi 100 da da 100 anni e 110 anni porta avanti questo club e il club la dirigenza la giunta direttiva il presidente Bartomeu ha ritirato il l'ordine del giorno e poi dicendo che si faceva una riflessione e poi ovviamente nel giornate successive ai mass media ha dichiarato che ovviamente quel cambio di scudo fracassa completamente non lo scudo rimarrà quello che però dobbiamo analizzarle quello che è successo che sono successe anche altre cose è stato bocciato un articolo dello statuto è stato invece approvato un altro articolo un articolo statuto che dietro si poteva pensare addirittura che ci fosse la possibilità di poter sostituire l'azionale popolare del Barça con SPA una società per azioni si chiama qui in Italia e l'altro invece approvato che è quello della che interessa molto a noi del movimento pegnistico specialmente internazionale quello della 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 nascita all'interno dell'inserimento nello statuto del Barça della confederazione mondiale della spegnas del del Barça con tutta la sua struttura delle trend delle delle federazioni e quindi delle pegne abbinate alle federazioni territoriali e e poi ovviamente c'è stata una parte molto controversa una votazione sui nuovi direttivi e accorpati non fatta singolarmente ma fatta su una lista e quella che era un po più complicata cioè la signora Planas è passata come membra della giunta direttiva questa signora veniva dato un po accusato il fatto di essere di aver lavorato per strutture non non all'interno dei valori del Barça cioè strutture che facevano capo un po alla storia e al movimento della destra spagnola sostanzialmente e spagnolista quindi anche su questo affronteremo il tema lo approfondiremo nel subito con un nostro amico e poi e poi e poi e poi fammi finire Alberto e poi ti lascio la parola e poi insomma ci sentiamo con la giunta direttiva della della parte della giunta direttiva della Pegna Lombarda perché si avvicina l'appuntamento del di Milano 5 6 novembre. Quello che dicevi te la puntata scorsa su Ronaldinho che appoggiava questo presidente di ultradestra. Sì, Bolsonaro. Jair Bolsonaro è stato ritirato la nomina di ambasciatore esportivo dal Barça e mi sembra che hanno fatto un nome benissimo sì poi io non ho trovato conferme ufficiali dal club su questa è uscita la notizia su dei media d'Europa però vediamo poi riparliamo dai andiamo a sentire i gol del Barça tratti da Raccù con il Sevilla e con l'Inter e poi rientriamo subito dopo con il nostro primo grande ospite. Sei pronto TOB. Exatto. S'acqua portata l' anges di dreta, giocata individual genera una superiorità descomunale enmig di la taranina defensiva di Machin la posa per Luisito, Luisito Messi, Messi filtra una pilota deliciosa a l'interior dell'area per Coutinho i la rematada tal com li arriva la passata da Messi del Brasile a l'esquerra de la porteria de Badgley, è un